Benvenuti, bentornati su MyFootballGersey. Questo è il terzo jersey di Milan per questa sezione. Questa è una versione divertente, davvero bella, ma stop parlando e piacere il video! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info La maglia è molto bella, lo dico spesso, lo so, mi dispiace, ma questa è veramente bella! I like the grey that you can see and this color, this pallid green, this mint, really nice! Let me know if you agree with me or not. The cost, as you can see, is very low and it includes the shipping fee. And the shipment was great, I received the jersey in 3 weeks! Let me know what other jersey would like to see! I hope you can enjoy the video, so please subscribe to the channel, iscrivetevi al canale, it's really important to show you different jersey every day! For today that's all, per oggi è tutto, see you next time, ciao! Sì, ciao! Grazie.